Oltre la foresta e nell'ocidolo del nulla. Con questa lettura poi terminerà il nostro incontro e ci sarà appunto un saluto finale. Quindi direi che a questo punto lascerei la parola a Badiolciano Mazzocchi per introdurre l'incontro di oggi. Grazie a tutti. Bene, benvenuti. E oggi siamo un po' ridotti, forse anche la pioggia può avere alquanto ostacolato. L'incontro di oggi praticamente non ha nulla di ciò che appaga visivamente la nostra sede di bellezza. Nel senso che è un incontro soprattutto di riflessione. Però c'è la bellezza che si esprime, ma non è la bellezza dei fiori dell'albero in primavera. C'è quella bellezza nascosta sotto la terra e raccolta dalle radici. Ecco, penso che oggi siamo qua per fare una... Siamo invitati ad una riflessione che ci conduce alle radici del nostro esserci. Nessun avvenimento, credo, conduce a questa riflessione come la morte. La morte è qualcosa che in cui tutti noi pensiamo profondamente c'è, perché ci appartiene. Però soltanto cerchiamo di evitare il confronto con la morte. Eppure è in quel confronto, a tu per tu con la morte, che noi non abbandoniamo tutto quanto a cui ci eravamo aggrappati. E saremo veramente a tu per tu con l'essenza. E nel momento del fallimento ci siamo anche come società politica italiana. Non reggono gli avvoggi. Siamo a tu per tu con ciò che è vero. E dobbiamo abbandonare ciò che ci appaglia momentaneamente. Nel primo incontro che avevo, come dito, contemplato la natura e dal silenzio alla poesia della fede, siamo stati a tu per tu con la madre natura. E abbiamo anche attraverso quelle declamazioni assaporato come è vero che la natura continua a farci la madre, anche nel cammino culturale e spirituale. ci politica, ci dischiude, ci essenzializza, ci fa scoprire, ci fa mettere in atto la bellezza dell'essenziale e di ciò che è semplice. Nel secondo incontro abbiamo praticamente meditato su questa via che l'uomo percorre, che si snoda sempre sul grande vento della natura. E si diceva che una via ha sempre due sponde. E le due sponde devono rimanere sempre opposte e separarne, altrimenti non ce l'abbiamo. Quindi abbiamo la vocazione a camminare tra gli opposti, senza mai ridurli a uno. Sarebbe l'eliminazione della via e del cammino. Quindi, ecco, il cammino è tuo, sei tu che cammini tra gli opposti. profonda riflessione, così ben divacizzata dal maestro che più volte ci ripeteva non ho nessuna fede. Il suo discorso è quasi divulgitato di misticità della fede. Ebbene, se ci confrontiamo con la morte, se stiamo di fronte alla morte, ci accorciamo che queste due sponde che credevamo di aver visto o intravisto lungo il cammino della vita, di fatto queste due sponde sono due orizzonti che si sperano nelle vini. sentiamo due nomi tra queste due sponde possiamo chiamare una sponda l'assoluto e l'altra sponda il nulla. L'assoluto nella nostra mente è la realtà che è perfetta. la completa aurealizzazione il nulla invece è il suo posto il vuoto. L'ultimo appagno che verrà a comporre e a tentarsi sarà quando non è o se la sponda del mondo mi dichiama la sua e così non c'è nessuna via la tua molta tradizione cristiana e cristiana è sempre rimasta condizionata dalla tentazione di identificare che io ho nella sua ossia ne hanno foste di alcuni cristiani forse reagendo hanno chiamato Dio il nulla il santo nulla identificare Dio nell'assoluto conduce al dobbatismo al fondamentalismo identificare l'ultima realtà nel nulla conduce al fatalismo la separazione tra il mondo e il nulla rimarrà perché l'assoluto e il nulla sono qualità di Dio il mistico cristiano che maggiormente ha sviluppato questo è Niccolò Musano cardinale di San Romacchia esco di Bressanone intimo amico di Papa Pio II fu colui che preparò la momentanea ricongiunzione della chiesa cattolica della chiesa ortodossa fu lui che accompagnò a Firenze il consiglio di Firenze il patriarca di Costantinopoli quella comunione non durò comunque Niccolò Cusano ottenne questo grande segno che allargando gli orizzonti lasciando l'assoluto e nulla nell'infinito la comunione è possibile un grande filosofo contemporaneo ha dato inizio ad una ricerca filosofica comunemente chiamata la scuola filosofica di Kyoto a Kyoto si è anche una via chiamata la via dei filosofi dove Niccolò quotidianamente passava per recarsi all'università e si è anche però di formazione buddista precisamente dello Zen praticante della meditazione Zen conoscitore di Heidener di Barth di Niccolò Cusano dedicò l'ultima sua opera a Dio lui figlio di una religiosità dove non si nomina Dio e vi leggo alcune sue espressioni le trago da un libro che voi userò la tua vita la vision di il mondo buddista la realtà ultima è chiamata il sé il sé è vero il sé è un'unità attraverso la sua autonevazione è vero ciò che contemporaneamente è autonevazione di sé che non si conclude in una sua identità o individualità possiamo pensare in ciascuna direzione di ambe due le parti le due sponde appunto ma ciò che esiste da se stesso e si muove da se stesso cioè la vera verità non si incontra in nessuna delle due essa esiste nell'identità contradditoria di queste due direzioni ciò che è vero è sempre ultimamente contradditorio è sempre un cammino tra due opposti il sé oscilla come un pendolo tra il desiderio e il suo appagamento bene ora ascoltiamo ciò che Marcello Di Lardi appunto studioso sia dei mistici cristiani sia del cammino mistico Zè ci offrirà sugeno bracciale っていう lungo che padre Luciano ha esordito toccando quelli che sono i temi fondamentali della filosofia e quelli che sono i temi in cui la filosofia diventando pienamente se stessa incontra la religione la verità è la morte questi sono i grandi temi di tutto il pensiero filosofico e di tutto il pensiero anche non filosofico che però cerca di confrontarsi con quello che è il mistero del diesistere dell'essere umano la verità e la morte anche se molto spesso questi termini che possono essere declinati in modi diversi nelle culture tutti gli esseri umani muoiono ma non in tutte le culture il senso del morire acquista la medesima struttura quindi ci sono differenze nelle identità e c'è un sfondo di identità però anche al di là delle differenze questi temi, queste esperienze sono appunto al centro della riflessione di ogni grande autore, di ogni grande pensatore e lo sono anche nel caso dei pensatori che incontreremo oggi uno occidentale in parte italiano vissuto molto tempo molta parte della sua vita la maggior parte della sua vita probabilmente su questo suolo anche se era originario delle zone tedesche è uno giapponese che parte dall'antico sfondo culturale giapponese per incontrare il pensiero e la cultura dell'occidente dell'Europa tra fine ottocento e inizio novecento il primo come diceva Paolo Luciano è stato un cardinale un vescovo a Bressanone Nicolaus Christ era il suo nome tedesco originario latinizzato in Nicolò o Nicola da Cusa Cues era il villaggio natale sulla Mosella un fiume vicino a Treveri nasce nel 1401 e muore nel 1464 quindi siamo in piena epoca dell'umanesimo l'Italia in quel secolo è un paese florido in alcune regioni soprattutto è un paese in cui la cultura si sta ampliando si sta diffondendo e il giovane Nicolò viene a Padova dalla Natia Germania per studiare per studiare diritto si laurea in diritto canonico poi studia filosofia studia teologia diventa in breve tempo uno dei pensatori più influenti della sua epoca tanto che appunto cardinali papi lo invitano a avere una parte importante un ruolo fondamentale nella chiesa dell'epoca sarà anche uno dei promotori del concilio di Basilea nel 1400 qua al di sopra o al di sotto ciò che è sfondo e ciò che è trascendente ciò che sta oltre non posso pensare di definirlo ma non posso nemmeno evitare di farlo non posso pensare che la mia definizione di che è di tutto di ciò che vorrei definire ma non posso nemmeno tacere soltanto devo sapermi muovere su questa via da due sponde e questa è la difficoltà e questo è il grande compito la grande sfida del filosofo e diversamente del poeta oggi transiteremo anche da queste due sponde la parola filosofica e la parola poetica che in modi diversi a loro modo rigorosi di entrambi cioè un rigore della parola filosofica che non è il rigore della parola poetica e viceversa e forse abbiamo bisogno di entrambi queste forme di rigore così come dovremmo dire abbiamo bisogno del suono musicale e del colore della pittura della parola teologica e della parola anche drammaturgica ciascuna ha un suo rigore ma ciascuno di questi rigori sa che c'è sempre una eccedenza era un tema che avevamo incontrato anche due settimane fa con il primo di questi incontri e Cusano scrive con questa consapevolezza scrive sapendo che il linguaggio che cerca la verità è un linguaggio che non la possiede è un linguaggio un linguaggio investigativo De Quereldo Deum in latino titolo che Cusano sceglie per uno dei suoi dialoghi significa il Dio da ricercare e spesso noi lo possiamo tradurre anche come la ricerca di Dio ma questo Quereldo in latino è una espressione una perifratica passiva che indica ciò che deve essere ricercato e noi potremmo anche interpretare così il Dio non è mai un Dio da possedere non è depossivendo Deo il titolo è dequerendo Deo Querele significa richiedere cercare domandare anche invocare c'è sempre questa dimensione dell'attendere si attende ci si tende verso qualcosa perché quel qualcosa non lo si possiede e non lo si possiede mai anzi ci si avvicina tanto più quanto meno si pensa di possederlo quanto più si è consapevoli di ignorarlo ecco perché un altro dei testi famosi di Cusani si intitola la dotta ignoranza è quasi un simolo è quasi una contraddizione torneremo molto su questa dimensione della contraddittorietà oggi cosa significa che l'ignoranza è dotta l'ignoranza dovrebbe essere proprio ciò che è attivato o adiquato nella sapienza e la sapienza dovrebbe essere ciò che si distingue dall'ignoranza invece per Cusani per accusare l'ignoranza è essere sapiente chi crede di sapere non sa chi sa di non sapere è più vicino alla verità questa era la grande intuizione socratico Socrate inaugura il gesto filosofico greco dopo l'esperienza dei primi sapienti e dei sovisti ma Socrate lo inaugura con questa consapevolezza sa veramente colui che sa di non sapere cioè colui che si mette in cammino colui che è sempre per via per strada colui che si dispone ad un cammino e potremmo dire anche che si dispone a questo cammino usando poi una immagine di San Giovanni della Croce si dispone a questo cammino scalzo senza protezioni senza rifatti scalzo vuol dire nella povertà di sapere che non possiamo portare con noi alcunché perché qualunque cosa rischerebbe di frapporsi tra noi e l'oggetto amato così come quando noi ci innamoriamo di una persona lasciamo dietro di tutto siamo risposti a perdere ogni altra cosa per quell'unica cosa o persona veramente importante come nella parabola evangelica nel contadino che trovava il tesoro è un campo e vende tutto per acquistare quel campo perché sa che nessuno dei suoi avere è più importante di quella cosa che ha trovato dobbiamo perdere tutto per ritenere tutto dobbiamo essere scalzi sulla via per poter non mancare di nulla ma questa non mancanza non è appunto un possesso è proprio la ricerca che ci riempie insieme a questa immagine della tutta ignoranza questo sapere di non sapere e in questo essere più vicini alla verità Cusano aggiunge accosto a un'altra immagine quella della congettura in latino De coniecturis sulle congetture è un altro titolo che inaugura uno dei testi appunto degli anni 40 del 400 Cusano ha circa 40 43 anni quando compone questi testi è diciamo nel pieno della maturità fisica e intellettuale è un uomo che sa essere nel mondo senza essere del mondo perché si adopera per far dialogare persone che erano distanti si adopera per costruire ponti messaggi aperture ma al tempo stesso è un mistico che sa anche fare spazio all'interiorità che sa che non c'è scissione tra l'interiorità e la capacità pratica ma che la vita interiore si esplica all'esterno e che la vera efficacia dell'azione si nutre di un'interiorità profonda non ci può essere azione efficace se non nutrita da una dimensione di interiorità e non c'è interiorità autentica genuina se non c'è anche una capacità di traduzione in gesto che cosa significa congettura anche qui per usare un'idea fondamentale è che il sapere umano non è mai un sapere che possa afferrare totalmente l'oggetto il sapere umano è per definizione relativo cioè in relazione alla finitezza dell'essere umano non è mai un sapere assoluto e come si fa allora a incontrare o a tendere verso l'assoluto se questo nostro sapere di cui disponiamo se le parole che noi utilizziamo sono sempre parole relative noi parliamo sempre in una lingua particolare nessun essere umano parla una lingua assoluta nell'italiano nel latino nel sanscrito nel giapponese nessuna lingua umana è una lingua assoluta anche la lingua di Gesù è una lingua particolare l'aramaico piuttosto che il greco l'incarnazione che noi siamo che ciascuno è è un'incarnazione particolare della vita in greco c'è questa distinzione tra la zoe la vita assoluta la vita eterna e il bios che è la vita particolare singola ma in questa dialettica e in questa contraddizione che c'è il darsi della verità le figure particolari della verità non la esauriscono ma non c'è verità senza le sue figure particolari le congetture sono questo per usare sono i nostri barbettamenti più o meno acuti più o meno geniali sono i nostri tentativi infiniti mai esauriti e mai esauribili di dire appunto ciò che sta oltre ogni dire di questo noi disponiamo di congetture ogni nostro pensiero è congetturale scusano è a origine del pensiero scientifico moderno nella metà del quattrocento aveva già in alcuni testi scritto e intuito il fatto che essendo l'assoluto infinito infinite sono anche le sue figure e gli infiniti possono essere anche i suoi mondi e quindi non è affatto che la terra fosse al centro dell'universo un cardinale cattolico prima 200 anni quasi quindi ogni tanto la voce va e la voce viene a metà del quattrocento un cardinale cattolico dice non è affatto detto che la terra sia al centro dell'universo anzi è molto più sensato è molto più probabile dire che la terra sia uno degli infiniti pianeti e il sole è una delle infinite stelle di questo nostro cosmo perché infinite sono le figure nelle quali soffia la verità quindi pensate anche qui da un punto di vista scientifico da un punto di vista teologico l'ardimento di intuizione di questo sacerdote di questo filosofo di questo teologo e quindi ogni linguaggio che tenta di esprimere l'assoluto deve sapersi finito limitato ma in quanto finito figura dell'assoluto quindi si rovescia anche la dimensione apparentemente negativa o pessimistica ah che peccato che il linguaggio sia finito che il peccato che la mia parola non può stare in fronte in fronte invece tu la non c'è ma questa è la parola bellissima della parola che è chissà che tutte le parole sono necessarie perché tutte le figure danno espressione alla sua vita è come se la ricerca di Dio fosse aperta a infinite possibilità è come se nella mia ricerca io avessi bisogno anche di compagni di viaggio io potessi ricavare nuova lingua da altre parole da altri linguaggi da altre esperienze il sé il mio particolare il sé il sé ciascuno vive abita in questa disseminazione in questa dispersione che non significa che si dissolve in un mare indistinto ma significa che non è autonomo nel senso di diviso da tutto il resto ma è sempre invece intrecciato con tutto ciò che lo circonda abitare in questa dispersione significa entrare in contatto con la pluralità della vita con questa eccedenza dell'assoluto possiamo ignorare la dispersione possiamo disconoscere il ruolo essenziale dell'altro ma così ci chiudiamo la possibilità di incontrare veramente la vita ci chiudiamo la possibilità di entrare in contatto con una via tra queste due scorte e quindi in un certo senso rischiamo di chiuderci la possibilità di vivere veramente perché la vera vita è questa vita che si apre che è continua donazione di sé e quindi è continuo incontro con ciò che è oltre noi stessi Kuzano scrive in un suo testo alcune righe molto importanti che poi entrano in dialogo a distanza con l'autore giapponese che poi ascolteremo scrive a partire da un sermone di San Paolo e dice l'Apostolo Paolo disse che noi stiamo in Dio e ci muoviamo in Lui siamo infatti dei viandanti il viandante prende tale nome ed è viandante per la parola via se si domanda per quanto a un viandante che cammina o si muove in una via infinita dove si trovi risponderà nella via e se si domanda dove si muova la sua risposta sarà nella via e se si viene chiesto da che cosa si muova dirà dalla via e si sarà interrogato circa la sua meta dirà ancora dalla via alla via in tal modo la via infinita viene disegnata come il luogo del viandante ed essa è Dio quella via al di fuori della quale non è dato trovare alcun viandante è dunque l'essere senza principio e fine dal quale il viandante ricava tutto ciò che è ed ha a partire da lui è qui andato questa via è il luogo e questo luogo è Dio parole che mi sciaracitarò in cui tra poco anche scoteremo qualcosa potrebbe avere sotto scritto perfettamente Dio non è un ente al di sopra degli enti per usare non è un super ente così come Cristo non è un super luogo Dio è al di là della dicotomia essere non essere o se preferiamo è al di qua è quello sfondo a partire da lui essere non essere come posizione originale del pensiero occidentale in quel modo si dà poi vedremo che in Giappone è altro modo anche di pensare nulla contraposto all'essere ma se noi pensassimo di definire Dio in qualche modo già appunto ecco lo faremmo diventare qualcosa di imposto qualcosa di detto qualcosa di imperato e allora Dio non sarebbe veramente Dio il luogo in cui Dio sarebbe sarebbe il mio linguaggio sarebbe il mio pensiero se io pensassi di poter esaurire Dio dicendo ma al di là dell'essere capite la sottigliezza capite la difficoltà anche estrema abissale nella quale si muove il pensiero e il linguaggio umano devo dire perché anche tacere sarebbe una parzialità ma devo dire disdicendo devo pensare a Dio piuttosto come a quello sfondo nel quale mi muovo così come la via è sfondo per impiantare e al tempo stesso e qui Cusano attinge anche la grande esperienza mistica di Meister Eckhart che era stato condannato come eredico ma qui Cusano lo riprende e dice attenzione perché la via è sfondo per il viandante e fa sì che il viandante sia tale ma il viandante anche che fa essere la via che incarna la via la via non è qualcosa che sta lì la via non è una cosa la via è un processo ecco qui se vogliamo tutta la dimensione dell'incarnazione Meister Eckhart chiamava questo la generazione del logos nell'anima la generazione del verbo divino nell'anima di ciascuno di noi se io non faccio nascere nel mio intimo Dio Dio non nasce non è pensate la responsabilità che può dire di ciascuno qui si apre anche tutto un altro discorso molto complesso sulla pluralità della generazione del verbo non dobbiamo pensare che questi siano termini appunto assoluti anche l'ogos è un termine relativo è una parola greca anche pereship in ebraico principio è una parola relativa di una lingua quindi di nuovo attenzione non c'è solo un'unica via non c'è solo un'unica possibilità di esperire il divino ciascuno di noi ha il compito di trovare appunto questa possibilità di esperienza di Dio qualcuno lo trova nell'amore qualcuno lo trova nel dolore qualcuno lo trova in una fede che diventa credenza che quindi anche si costituisce attraverso una serie di proposizioni ma attenzione di nuovo non richiudiamo l'esperienza del Dio che è sempre eccedente a tutte le sue forme in qualcuna di queste forme ecco perché Cusano è così attento a costruire discorsi e a costruire forme che eccedono se stesse sembrano capriole del linguaggio ma è un modo per mantenere alta la soglia di attenzione non lasciamoci appindolare da una parola che pretende di esaurire la totalità nessun catechismo potrà mai dire la totalità di ciò che è Dio potrà mai dire la totalità di ciò che è Via così come nessuna nostra camminata dirà la totalità del camminare nessun nostro bacio dirà la totalità del baciare nessuna nostra carezza dirà la totalità dell'accarezzare pensiamo a pellegrinaggio al cammino verso Gerusalemme verso la Mecca verso Santiago di Compostela verso Roma ecco ciascuno di questi cammini è sempre nuovo ogni volta che ciascun pellegrino lo compie e se ho visto più volte quel cammino quel cammino è sempre nuovo ecco la ricchetta infinita del Divino ogni volta che io mi siedo in meditazione quella volta è la prima volta ed è la prima volta perché potete anche essere l'ultima proviamo a pensare in questo modo ogni nostro gesto se io questa sera vado a casa e preparo un piatto di pasta è diverso pensarlo quel gesto come se fosse un gesto meccanico ripetitivo o come se fosse l'ultima volta che io preparo quella pasta ci viene un nodo alla gola quasi provare a pensare ogni nostro gesto come se fosse l'ultima volta che lo facciamo questo non significa affatto diventare cubi e pessimisti ma significa questo lo direbbe Cusano lo direbbe Nishida sentire nell'istante l'eternità in quell'unica volta fare la pasta non c'era bene né troppo cotta né cruda né troppo salata né insipida in quel gesto in quell'istante lì quella è un'esperienza del divino un'ultima parola prima di ascoltare la voce di Cusano grazie ai nostri lettori su questo termine così difficile d'accogliere in latino coincidenza oppositorio o coincidenza contraddittori cioè coincidenza degli opposti coincidenza dei contraddittori perché Dio è questo è coincidenza di ciò che è contraddittore Cusano utilizza degli esempi molto spesso tratti dalla geometria dalla matematica Cusano dice provate a pensare a una circonferenza e provate ad allargare il raggio di questa circonferenza allargatela ancora e ancora fate diventare infinito il raggio di questa circonferenza se io prendo una piccola circonferenza e confronto un arco di questa circonferenza con un segmento retto la differenza è lentevole da un lato un segmento curvo da un lato un segmento retto ma se io invece prendo un segmento di una conferenza di una circonferenza di raggio infinito e prendo un segmento retto non c'è differenza perché la circonferenza di raggio infinito coincide con una retta se voi prendete una circonferenza la ingrandite a fatti diventare sempre più grande la curva di questa circonferenza diventa retta la retta si può definire così come una parte di una circonferenza di raggio infinito quella circonferenza di raggio infinito dove avrà centro ovunque e nessun luogo perché se è infinita qualunque punto può essere centro di quella circonferenza o se vogliamo ragionare tridimensionalmente una sfera di raggio infinito gli astronomi gli astrofisici talvolta ragionano anche in questi termini quando provano a pensare a modellizzare matematicamente l'universo e provano a pensare come una circonferenza di raggio infinito il cui centro è ovunque ciascuno di noi è il centro dell'universo ecco la coincidenza degli opposti ecco quel limite di un pensiero congetturale perché queste sono ancora parole io cerco in maniera analogica faccio delle analogie cerco di pensare l'infinità di Dio attraverso questi esempi ci provo cerco di avere un'idea costruisco dei degli orientamenti dei modelli per tendere appunto a qualcosa che non è mai del tutto affermabile Dio è il luogo in cui le contraddizioni entrano in contatto e in comunione libertà e necessità assoluto e relativo finito e infinito bene e male in Dio entrano in comunione il male è incluso in Dio un Dio veramente assoluto non può avere anni fuori di sé ecco la dimensione anche dialettica su cui altri autori hanno riflettuto a lungo della morte in croce se Dio non muore non è veramente Dio questo è è bestemmiare per alcune forme di fede dal punto di vista di una teologia ebraica o islamica dire che Dio si incarna e muore per risorgere è bestemmia ma ecco qui di nuovo direbbe Cusani la coincidenza è oppositorio io devo sentirmi uno con il fratello musulmano sapendo che ciò che io dico per la sua dimensione di fede per il suo modo di entrare in contatto con Dio è bestemmia e il suo modo per il mio modo cristiano è qualcosa di non diciamo incardinato in una dimensione teologicamente autentica ma è in questo modo che si crea dialogo non tollerando l'altro non dicendo beh sì ti sopporto ma tanto so che ho verità e ragione dalla mia parte questa non è fratellanza questa è sopportazione la difficoltà ma una vera sfida è sentirsi uno nella differenza sapere che non ci sarà mai una differenza talmente forte da impedire ad una unità più ampia di tenerla insieme e al tempo stesso sapere che non ci sarà mai un'unità talmente forte da schiacciare le differenze ecco la coincidenza degli opposti ecco questa contraddittorietà che deve essere questa sì veramente sopportata bisogna portarne il peso bisogna riuscire a accogliere a farsi luogo per questa contraddizione è chiaro che se io fondo la mia adesione ad articoli di fede sulla possibilità del linguaggio di esprimere il vero e se voglio che questo linguaggio non sia contraddittorio perché la verità per essere tale non deve essere contraddittoria se questo è il mio fondamento allora non posso pensare alla contraddizione se fondo sulla proposizione logica la verità allora devo escludere la contraddizione ma se penso che invece la proposizione logica il discorrere che è un appunto in latino discurere che significa svilupparsi correre è un darsi delle parole che si inseguono le une con le altre se io accetto che questa sia una forma che tende verso la verità senza esaurirla se accetto che tutte le figure del linguaggio possano essere figure attraverso le quali la verità tramita senza arrestarsi in esse allora ecco che questa dimensura la contraddizione diventa non soltanto impossibile ma feconda diventa il sale o il lievito del nostro abitare la vita allora adesso possiamo ascoltare un trammento di questo dialogo sul Dio nascosto Dedeo avoscomito la verità e Dio si nascondono non si danno del tutto ma lasciano uno spazio lasciano che ci sia modo tempo spazio per la nostra ricerca se si tesse totalmente se si manifestasse totalmente senza poi ritrarsi con Gesù che si incarna ma poi ascende ma poi ritorna al Padre questo è il linguaggio cristiano se si manifestasse completamente non ci sarebbe possibilità di ricerca invece è in questo darsi e ritrarsi che c'è movimento in questa respirazione lo spirito è un prestito e quindi sul Dio nascosto è il titolo di un dialogo tra un cristiano e un gentile come lo chiama Cusano i gentili erano i pagani erano coloro che non erano entrati nella dimensione della fede cristiana ma qui vediamo il gentile non come l'avversario non è quello che sta al di là su un'altra sponda l'adversario nella tiene questa è quello che sta perso contro di noi no il gentile il pagano è quello che cammina con i cristiani e insieme dialogano colloquiano si chiariscono a vicenda le idee qui in questo brano soprattutto il gentile che chiede al cristiano di renderlo un parte edotto su ciò in cui crede e ne viene anche spiazzato viene spiazzato perché il cristiano mostra che non c'è un articolo una frase una proposizione assoluta non c'è qualcosa che mette a posto tutti i conti ma è questo appunto il movimento dell'andare che è la sostanza della sua fede allora ascoltiamo versare lacrime d'amore non false in verità ma sincere vorrei chiederti chi sei sono un cristiano che cosa adori Dio chi è il Dio che adori non lo so come puoi adorare con tanta serietà ciò che non conosci adoro perché non conosco trovo sorprendente che un uomo possa essere preso da ciò che ignora mi meraviglia di più che un uomo sia preso da ciò che crede di conoscere perché mai perché conosce meno ciò che crede di sapere di ciò che è certo di ignorare parla più chiaramente di primo dal momento che non si può conoscere nulla mi sembra forte chiunque ritenga di sapere qualcosa a me sembra che sia tu piuttosto completamente fuori di senno affermando che non si può conoscere nulla ti prego fratello di guidarmi cosicché io posso intendere quel che dici del tuo Dio rispondimi che cosa sai del Dio che adori so che tutto ciò che conosco non è Dio e che tutto ciò che concepisco non è simile a Lui egli è infatti al di sopra di tutto dunque Dio è nulla non è nulla perché nulla risponde al nome di nulla se non è nulla allora è qualcosa non è neppure qualcosa qualcosa non è infatti ogni cosa Dio invece non è qualcosa piuttosto che ogni cosa affermi cose sorprendenti che il Dio che adori non è né nulla né qualcosa nessuna ragione per afferrare tale verità Dio è al di sopra del nulla e del qualcosa il nulla gli obbedisce infatti per divenire qualcosa e questa è l'onipotenza divina grazie ad essa in verità egli supera tutto ciò che è o che non è cosicché Dio obbedisca sia ciò che non è sia ciò che è egli fa sì che il non essere giunga all'essere e che l'essere passi a non essere pertanto non è nessuna di quelle cose che sono al di sotto di lui e che la sua onnipotenza precede ecco perché essendo tutte le cose da lui non si può dire che Dio sia questo piuttosto che quello può essere nominato piccola cosa è quella che ha a noi ciò la cui grandezza non può essere concepita resta ineffabile ma Dio è ineffabile non è inutabile ma esprimibile al di sopra di tutte le cose dato che è causa di tutte le cose nominabili come può essere privo di nome colui che dà il nome alle altre cose è dunque esprimibile e inesprimibile a un tempo neppure questo Dio Dio non è la radice della contraddizione ma è la stessa semplicità che precede ogni radice non si deve perciò dire che è esprimibile o inesprimibile a un tempo che cosa dirai allora di Lui dirò che non è né nominato né non nominato e neppure che è nominato e non nominato insieme ma che tutte le cose che si possono dire disgiuntivamente e congiuntivamente per consenso o contraddizione non gli convengono a causa dell'eccellenza della sua infinità egli è infatti il principio unico anteriore ad ogni pensiero che sia possibile formulare intorno a Lui ecco un passaggio a partire dal quale adesso iniziamo a ascoltare un'altra voce chiedo ai padri Luciani di tornare qui per introdurre il pensatore giapponese di cui avete già ascoltato il nome Nishida Kitaro Kitaro è il nome Nishida è il cognome quasi un destino in giapponese Nishida significa campo d'occidente un giapponese che nasce nel libro del 270 muore nel 1945 un mese due mesi prima della fine della guerra in Giappone e che attraversa la grande trasformazione del Giappone in questo tornante di secolo studia sui classici cinesi come tutti i studenti della sua generazione ancora facevano ma al tempo stesso appartiene la prima generazione che inizia ad aprirsi ai classici filosofici europei legge in tedesco legge in inglese un po' in latino e in greco e quindi inizia a costruire una filosofia per la prima volta in Giappone che tenga insieme l'esperienza tipica del suolo giapponese l'esperienza dello Zen che praticava e il linguaggio la concettualità l'esperienza filosofica nel 1984 5 6 tra i miei studenti io ero rettore della teologia dei missionari saveriani uno studente era Tiziano Cosolini io ero stato anche maestro dei novizi l'avevo avuto pure il noviziano ora è uno dello staff di coloro che studiano con quello nel Parlamento il pensiero filosofico che di Sida di Talò e lo diciamo lo rinnovano lo sviluppano nel momento presente insieme con un missionario verbita americano americano ASIC presso l'università Nanzan di Nagoya e Tiziano Tosolini che una volta ha parlato pure in questa chiesa ha pubblicato questo ha tradotto e pubblicato in lingua italiana questo ultimo testo di Sirachitero la logica del luogo e la visione religiosa del mondo in tutto Milano abbiamo trovato una coppia nuova che è sul tavolino all'ingresso dove c'è questo addetto qui è la libreria San Mauro che fa il servizio della vendita dei libri però se la casa editrice a Palermo si possano richiedere quindi chi fosse interessato basta che poi alla libreria Paolina vi ha il suo nome chiedendo appunto questo libro di Missida Chitaro la logica del luogo e la visione religiosa del mondo ora io vi leggo a questo ultimo testo scritto da Missida alcune espressioni che non possono non disorientare e io lascio così rubide rocciose e direi anche blasfemi dopo Marcello aiuterà a cogliere l'energia di cammino che queste espressioni hanno nel contesto in cui noi siamo scrive in questo senso il vero assoluto deve essere una identità assolutamente contradditoria parla di Dio eh questo è l'unico modo con cui noi possiamo descrivere Dio in termini logici come assoluta autonegazione Dio contiene un'assoluta autonegazione al suo interno e si relaziona con se stesso alla maniera di una correlazione inversa per questa ragione Dio è un essere autosussistente e proprio perché è nulla assoluto Dio è assoluto Dio in quanto essere e allo stesso tempo è nulla assoluto non ha limiti alla sua potenza e alla sua monosenza è onnipotente e onnisciente poi scrive più avanti può sembrare estremamente assoluto ma il vero Dio assoluto deve possedere un aspetto diabolico solo così possiamo dire che Dio è veramente onnisciente ed onnipotente Yahweh è un Dio che ha richiesto ad Abramo di sacrificare il suo figlio di Geni di Esatto di rinunciare alla sua persona un Dio che semplicemente si oppone al male e lo combatte anche se lo soggioca è sempre un Dio relativo un Dio che è semplicemente trascendente sommo bene non è altro che un Dio astratto un Dio assoluto deve essere un Dio che contiene una negazione assoluta su interno ed essere così capace di scendere fino al male estremo solo il Dio che salva gli empi è il vero Dio assoluto la forma più elevata deve essere quella che dà forma alla materia più bassa l'agape assoluta deve stendersi fino al male assoluto alla maniera di una correlazione diversa Dio sta nascosto anche nel cuore della persona più malvagia un Dio che giudichi non è un Dio assoluto due punti per spiegare queste temi non so perché sono sono per via anch'io sto cercando di capire di ricogliere nel mio percorso diciamo filosofo quello che si cerca di esprimere appunto con parole due cenni sul percorso di Nishida anche per capire da dove nasce questo tipo di filosofia i brani che padre Luciano ci ha letto sono tratti da questo testo che è l'ultimo scritto da Nishida pochi mesi prima della morte devo concludere 1945 quindi un testo tardo sui tuoi 75 anni circa che già come dire risente alle sue spalle 50 e oltre anni di Camino quello testo importante di Nishida l'aveva pubblicato a 40 anni circa 40-41 1911 una tappa significativa per una svolta del suo pensiero arriva a 55-56 anni col testo luogo ecco perché prima avevo letto quella citazione da Cusano in cui parla della via come il luogo degli andanti perché questo termine in giapponese basho luogo è uno dei concetti che Nishida utilizza per indicare proprio questa dimensione assoluta divina ma non trascendente non soltanto trascendente la chiama anche luogo del nulla assoluto dobbiamo entrare piano piano in confidenza in punta di piede all'inizio in questo direttivo vocabolario filosofico Nishida come dicevo è un po' scuro qua nelle mie spalle il punto di convergenza di una tradizione giapponese che incontra l'occidente che viene quasi anche invasa dalla metà seconda metà dell'ottocento in giappone subisce una profonda trasformazione una profondissima crisi in realtà una crisi che diventa un'intrazione chissà se noi stiamo forse vivendo una base simile in realtà tecnicamente la crisi è un momento discriminante rapido quindi forse noi non siamo veramente in una crisi ci viene detto che siamo in una crisi ma non è così in senso greco crisis dal punto di vista medico è il momento in cui si dirime una situazione o si guarisce o si muore invece quando una crisi diventa qualcosa di strutturale allora forse stiamo assistendo a una mutazione a una trasformazione economica politica culturale è difficile stando all'interno coglierla facile a distanza di 50 o di 100 anni beh Mishida è vissuto in una situazione del genere in un'epoca in cui i suoi coetanei andavano anche letteralmente in depressione perché non capivano più qual era il loro posto come essere giapponesi a fine 800 inizio 1900 quando la occidentalizzazione del mondo sta dilagando e sembra anche schiacciare i valori propri del mondo nipponico anche del mondo cinese anche del mondo indiano c'è questa lunga trasformazione che per ogni scena cerca di volgere in maniera creativa in maniera propositiva non si tratta di subire l'influsso occidentale ma si tratta di incontrarlo di scoprire la ricchezza la positività di ciò che il pensiero occidentale ha da offrire senza negare la ricchezza la fecondità della propria tradizione culturale ecco perché è così interessante anche la sua esperienza che fonde pratica dello zen che non è filosofia o non solo filosofia è una pratica corporea si tratta di sedersi e di respirare si tratta di trasformare una pratica particolare la meditazione seduta in una vita vissuta in maniera nuova è una pratica che dal particolare trasforma l'universale è una pratica che dall'universale della vita si concentra in particolari momenti ecco la correlazione inversa in giapponese correlazione inversa dal singolo all'universale dall'universale al singolare dal divino all'umano dall'umano all'imano è una dimensione dialettica in cui nessun elemento è separato è tagliato è distaccato dagli altri in il suo testo Nishida scrive la gente pensa che io stia sempre discutendo dello stesso problema ma fin dal mio primo libro quello che avevo scritto a 40 anni qui scrive che viene a 70 il mio scopo è stato quello di vedere le cose da una prospettiva più fondamentale nella maniera più diretta possibile ho cercato cioè di afferrare quel fondamento da cui tutto emerge e a cui tutto ritorna ecco il fuoco ecco la dimensione fondamentale di questa ricerca durata tutta una vita le opere dei filosofi sono come dei segna via delle pietre miliari che pongono sul loro cammino per cercare di capire se e come si stanno muovendo la strada nessun libro è assoluto ma queste opere sono appunto come dei piccoli contrastelli che aiutano il filosofo come di tutto a dialogare con se stesso appunto a misurare come i campi base quando si ascende lungo una montagna sono delle tappe che ci aiutano a prendere un po' di fiato che segnano il cammino che abbiamo fatto e che ci aiutano a prendere slancio per proseguire Mishida unisce la sua esperienza la sua pratica dello Zen con lo studio dei testi filosofici e sente profondamente che la sua via il suo percorso è una via che passa attraverso lo studio anche qui non c'è separazione tra teoria e prassi la via della filosofia è una via che si incarna nella sua vita si incarna anche nelle sofferenze che questa vita gli produce Mishida perde una bambina una figlia quando lui ha circa 32 anni è la bambina 5 all'epoca era abbastanza frequente solo in Giappone queste morti premature una febbre per tifo un'influenza una polmonite erano spesso mortali e quindi la dimensione di questa caducità di questa fragilità della vita umana emerge in Mishida in diversi suoi scritti Mishida che aveva già perso una sorella quando lui aveva circa 15-16 anni e questa sorella che aveva fatto tanto per spingere a studiarle aveva capito le doti intellettuali del giovane fratello muore anche lei di malattia a 17-18 anni quindi una vita che si confronta con il dolore che sa che cosa significa e sente profondamente che il lavoro filosofico la pratica filosofica non è qualcosa di avulso da reale nessuna pratica compiuta con intensità è avulsa dalla vita ogni punto è vita essa stessa che noi siamo ingegneri filosofi insegnanti artisti quest'ultimo testo che scrive appunto sulla sole 75 anni ha un titolo complesso la logica del luogo e la visione religiosa del mondo unisce questa idea di luogo metafora nome per alludere all'assoluto a ciò che non è afferrabile dal concetto ma che è sfondo di ogni concetto a ciò che non è circoscrivibile da nessuna vita particolare ma che è il luogo a partire da cui tutte le vite si immergono e in cui tutte le vite si immergono questo luogo di cui riscita come filosofo in quanto filosofo cerca di costruire una logica questo è il senso del termine logica qui non è semplicemente una forma di argomentazione nazionale ma è un modo per dire in quanto filosofo io cerco di lavorare con le parole le parole sono il mio strumento come il colore e i pennelli sono gli strumenti del pittore come le note e gli strumenti musicali sono gli strumenti del musicista le parole i concetti sono gli strumenti del filosofo e quindi un filosofo che non vuole pubblicare il proprio ruolo cerca di costruire forme logiche però di questo luogo che è al di fuori e al di sopra della logica che non è logico esso stesso ma che si può intendere attraverso il linguaggio logica del luogo e visione religiosa del mondo il mondo viene visto attraverso una esperienza attraverso una intuizione religiosa che però non è in ultima analisi distinta da un'intuizione filosofica da un'intuizione morale da un'intuizione artistica del mondo questa è una delle verità che piano piano si fanno luce nel pensiero di discita secondo lui in ultimo al loro apice tanto l'esperienza artistica quanto quella filosofica quanto quella etico-morale quanto quella religiosa convertono in questo sfondo infinito tutte queste esperienze sono unificate ma non perché siano abolite le loro distinzioni l'artista è artista il religioso è religioso c'è dialogo c'è comunità ci può essere intreccio ma c'è anche distinzione non dobbiamo confondere la distinzione con la separazione le cose possono essere distinte senza essere separate la distinzione è la ricchezza della pluralità che permette all'unità di avere tanti colori è come la luce bianca che è la sintesi di tutte diciamo le sfumature di tutte le frequenze delle onde visive allora questo luogo del nulla assoluto non è il luogo in cui nulla accade ecco qua il termine nulla in giapponese non è l'opposto di essere noi occidentali facciamo fatica a penetrare un tipo di discorso perché la nostra tradizione culturale e filosofica e anche la nostra tradizione linguistica si è sviluppata soprattutto attraverso queste forme di contraposizione che ci hanno aiutato a leggere il mondo in un certo modo e anche a operare efficacemente in esso ma che ci hanno impedito di vedere altre sfumature una lingua non riesce a vedere tutte le sfumature ecco perché ha bisogno di tradurre da altre lingue per attrirsi ad altre sfumature allora traducendo dal giapponese questo che molti preferiscono anche non tradurre e quando lo traduciamo con nulla dobbiamo fare tutta una serie di glosse di note non è il nulla contraposto all'essere non è il non essere non è il nulla dell'ichilismo altro che da abbaglio siccome è buddismo è lo zen si parla di nulla allora una grande vulgata ha detto ah che pessimisti che nichilisti questi buddisti dicono che tutto è nulla dicono che nulla esiste no esattamente il contrario potremmo dire il nulla è lo sfondo a partire da cui tutto nasce tutto emerge tutto si immerge è quell'orizzonte infinito di possibilità a partire dal quale la vita si dà si offre e al tempo stesso la vita si ritrae vedete che questa metafora della respirazione continua a tornare anche due settimane fa l'avevo utilizzata per cercare di decorare un'immagine un certo tipo di intuizione del mondo il nulla assoluto è quell'orizzonte o universale che avvolge e contiene in sé ogni particolare è quell'ineffabile e indeterminato sfondo in cui ogni forma ogni figura appunto si definisce come nella pittura tradizionale giapponese dallo sfondo bianco della carta delle figure emergono ma non sono definite queste figure non c'è un contorno netto che le delimita perché qui la sapienza giapponese traduce in immagine questa consapevolezza che c'è questo continuo passare tra passare tra il visibile e l'invisibile la forma c'è la figura si dà si offre allo sguardo a partire dallo sfondo da cui si stacca senza quello sfondo non ci sarebbe figura e viceversa quello sfondo si definisce come sfondo a partire dalle figure che adesso si distaccano nel momento in cui c'è una figura ecco lo sfondo ma se io ritaglio quel dipinto e vedo quello sfondo questo manifesto lo sfondo bianco da cui emergono le figure e vedo quello sfondo come figura l'ho nominata l'ho detto ho costruito un concetto ho detto Dio ho detto nulla ho detto assoluto ecco che lo sfondo vero e proprio retrocede questo sfondo bianco per le figure è di nuovo figura esso stesso e lo sfondo è ciò che sta dietro è come se ogni volta che cercassi di nominare qualcosa facessi retrocedere un po' quello sfondo a partire da cui quella cosa è nominata è nominata se io dico Dio è l'ente supremo Miscida mi direbbe attento l'ente supremo è una figura non è lo sfondo allora io dico beh non dico più l'ente supremo dico divinità attento perché allora la divinità è la figura allora io cerco di inseguire questo sfondo e dirò assoluto e dirò nulla ma ogni volta che lo dirò lo sfondo si sarà in un certo senso sfondato sarà retrocesso capite quindi che io non posso mai pescare la luna che si inflette nell'acqua perché ogni volta che cerco di prenderla la luna sfugge e però è a partire da quello sfondo che io posso compiere questo gesto è a partire da questa dimensione ineffabile ineffabile significa che non può essere detta a partire da questa dimensione che io cerco di intendere di intendere che ogni mia parola si dà e si odia un'altra citazione da questo testo di nishida la dimensione religiosa nishida è quindi non tanto una una credenza un credere a un credere in qualcosa non è una conoscenza particolare di verità che si concretizza nell'articolo di te è piuttosto diciamo un ritornare sempre di nuovo a vivere in Dio nel divino in questo sfondo è una consapevolezza che viene sempre guadagnata e perduta non è mai una volta perduta acquisita di essere da sempre e per sempre accolti in questo sfondo è come dire l'intuizione immediata cioè senza mediazioni del nostro essere inscritti connessi legati amati anche conoscenza e l'amore diventano tutt'uno in questa intuizione perdiscita ha questa forza unificante che è una trama che si intrecce in tutte le cose in tutte le esperienze allora scrive Shida perciò il sé è un'esistenza autocontrattentore da una parte esso riflette il mondo in sé il mondo in totalità lo sfondo infinito si concentra e si riflette nel sé da una parte e dall'altra possiede se stesso in un altro assurdo ecco la correlazione inversa di nuovo perché il sé è autocontradizione perché da un lato è la complicazione questo è un termine di Cusano il sé complica co-implica cioè tiene insieme come una sorta di piegatura infinita è come se io avesse un grande foglio e lo ripiegassi in tante 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 parti fino ad avere un foglietto ripiegato questo è il sé co-implicazione dell'assoluto ma al tempo stesso io posso esplicare posso dispiegare questo sé e far ritornare quel foglio infinito l'assoluto né relativo il relativo né l'assoluto l'infinito nel granello di polvere la goccia d'acqua come assoluto mare anche la fisica contemporanea è iniziata da queste immagini un singolo atomo con tutte le sue particelle subatomiche è l'immagine dell'universo infinito con tutti i suoi pianeti che girano noi possiamo modificare a piacere le metafore e le analogie che sono utili per cercare di avvicinare l'altro e l'ospettivo un linguaggio così difficile capite la complessità ci sono vari linguaggi per avvicinare l'assoluto questo è uno dei linguaggi inizia cerca appunto di costruire razionalmente logicamente un modo per dire questo e qui c'è un'altra preziosa indicazione quando dice che il sé è un'esistenza autocontradittoria perché appunto da una parte riflette il mondo in se stesso e dall'altra possiede se stesso in un altro assoluto ci dice di nuovo quella dimensione di alterità che ci abita che noi siamo la mia verità la verità della mia vita si iscrive nella dimensione dell'alterità io sono sempre abitato dall'alterità nasco a partire da una alterità sono gettato in questa vita senza averlo voluto io sono fatto nascere da altri con i quali sono in debito noi nasciamo sempre in debito ecco anche la dimensione del mito del paradiso che esiste in quanto per tutto noi siamo in debito di qualcosa che non abbiamo potuto scegliere e dobbiamo però riconquistare per non restare eternamente in debito della verità e della vita non devo imparare a vedermi come altro come differente da me stesso come attraversato da queste molteplicità è così che imparo appunto ad evitare la dispersione a essere al mio posto senza chiudermi ma aprendomi sono due modi fondamentalmente per stare al mondo un essere al mondo uno stare al proprio posto chiudendosi e si possono fare benissimo tutte le proporzioni quotidiane si può vivere tutta la vita così ma si rischia di non incontrare mai veramente se stessi e l'altro modo invece che richiede forse molta più fatica è quello di abitare di stare al proprio posto però aprendosi quindi restando esposti abitando nella esposizione all'altro esporsi significa appunto anche essere feriti significa come dire avere belle viva e non corazze che proteggono abitare questa dispersione che è il sé è il compito appunto che anche la biografia cerca di portare avanti e che è anche forse un po' la traccia di questi nostri incontri questi sabati di aprile questa alterità che si incontra non per dire tutti abbiamo detto la stessa cosa ogni percorso è assolutamente identico no non c'è anche qui l'appiattimento delle differenze c'è il mantenimento della ricchezza della pluralità ma nell'incontro nella possibilità di procedere insieme ultima citazione da questo testo di appunto ricco che veramente richiede tempo per riuscire ad assaporarlo a gustarlo un Dio che forse semplicemente trascendente e autosufficiente non sarebbe un vero Dio Dio deve sempre possedere anche un aspetto di svuotamento un aspetto chenotico chenosis in greco significa vacuità vuoto impoverimento abbassamento diminuzione aspetto chenotico di Dio nella tradizione teologica quindi Shida è consapevole quasi un secolo fa un giapponese che scrive con termini della teologia cristiana non era una cosa comune un Dio chenotico è un Dio che si abbassa è un Dio che si incarna che si fa uomo che muore questo dice di Shida che non è cristiano nel senso diciamo non è stato battezzato non è non appartiene a una chiesa a una confessione cristiana ma qui sente una scintilla della verità che cerca per tutta la vita un Dio che fosse solo trascendente non sarebbe un vero Dio sarebbe un Dio distante dal mondo sarebbe un Dio che taglierebbe fuori una parte dell'esistenza sarebbe un Dio solo pensato o sarebbe un Dio che non avrebbe assunto in sé anche la dimensione del corpo della caducità degli impermanenti proprio per questo un Dio che è totalmente trascendente e allo stesso tempo immanente un Dio che è oltre la dimensione solo mondana ma che al tempo stesso è anche in quella mondana che non si limita a nessuno di questi due aspetti ma che lì comprende perché è appunto quel luogo da cui tutto emerge un Dio che è immanente e allo stesso tempo trascendente è un vero Dio dialettico la dialettica qui è intesa come questa capacità di tenere insieme gli opposti di contenere tenere insieme in quanto tale si può dire che Dio è il vero assoluto solo se teniamo insieme immanenze trascendenza conoscenza e amore libertà e necessità se riusciamo a essere talmente aperti da contenere queste dimensioni allora riusciamo ad entrare in comunione con questo Dio se si afferma che Dio crea il mondo per amore l'amore assoluto di Dio non sarà un'opera dall'esterno ma quest'opera sarà essenziale a Dio stesso il mondo non è altro da Dio anche se Dio non si riduce al mondo e questo lo avevamo incontrato con i haiku giapponesi con San Francesco non è semplice panteismo di Shida non sta dicendo Dio è soltanto quello che noi vediamo questo mondo qui sta dicendo Dio è anche in questo mondo non è solo altrove e quando voi non vi accorgete di quanta dimensione divina c'è nella carta di questo libro o nelle gocce di pioggia che cadono fuori allora avete abbiamo ancora un'immagine troppo ridotta di Dio così come avremo un'immagine troppo ridotta se credessimo che Dio è solo pioggia fiume terra aria fuoco Dio è queste cose ed è anche oltre queste cose è lo sfondo di tutte queste cose e passa attraverso tutte queste cose in Iscita fa anche un'altra bellissima citazione implicita indiretta in cui si risente risuona tutta la dimensione anche della della parola di Cusato perché non sempre lo cita non sempre lo dice in maniera esplicita ma in alcuni punti si sente che Iscita aveva letto Cusano è rimasto tra l'altro la sua biblioteca e ci sono libri con i suoi punti ci sono i libri di Cusano anche ho spesso paragonato l'identità assolutamente contraddittoria cioè ciò che io chiamo luogo sono tutti sinonimi Dio luogo luogo del nulla nulla assoluto identità assolutamente contraddittoria viscita è un forgiatore straordinario di concetti cerca di trovare ogni volta un modo per dire con parole ciò che va oltre le parole ciò che io ho chiamato luogo l'ho spesso anche paragonato ad una sfera infinita che non ha circonferenza e qui c'entro è ovunque in questa Cusano non avendo un fondamento proprio non avendo cioè un sostrato assoluto cioè legato dagli altri essendo nulla perché al di fuori del linguaggio al di fuori dell'essere questa sfera dal carattere di identità contraddittoria riflette se stessa in se stessa l'orientamento diretto dalla periferia alla circonferenza può essere negativo quello che leggeva prima Paolo Luciano può essere diabolico se io chiudo questo sfondo e lo intensifico e credo che possa essere risolto in un'unica frase in un'unica parola o se anche luogo o se anche Dio allora l'ho perso in questo senso è diabolico cioè divide separa se io credo di poter dire una frase definitiva sull'assoluto allora quello assoluto l'ho proprio perso ecco perché dice anche Androo e di Scida è più facile qui chiaramente la sonata evangelica è più facile per un cammello passare attraverso la crona di un anno che per un vero moralista essere un uomo di religione è molto più facile per un cammello passare perché il moralista è colui che crede di avere risolto in una frase in una etichetta in un catechismo ciò che invece si dà costantemente nella sua novità lo sfondo infinito è novità continua ogni bambino che nasce ogni filo d'erba che spunta ogni goccia di pioggia che cade è una novità del divino noi possiamo assumere in un modo piuttosto che in un altro possiamo escludere la verità possiamo chiuderci erigere barriere o possiamo invece aprire porte costruire ponti ecco io chiudo allora qui la mia tentativa diciamo di introduzione non è altro che questo al pensiero di questo autore giapponese e lascio di nuovo però lo spazio e il tempo di una parola che torna alla dimensione poetica abbiamo ascoltato parole filosofiche con fatica ringrazio per la vostra attenzione perché non è un fatto qualcosa semplice da digerire questo tipo di discorso questo tipo di logica non è che la poesia sia più facile può però far risuonare altre corde e per alcuni cuori per alcune orecchie può essere una via migliore da seguire rispetto alla via filosofica non è un problema non deve essere un problema ognuno ha la sua via di seguire le parole poetiche che ascoltiamo ora sono parole scritte da un grande mistico occidentale ci piace tenere insieme queste sponde sapendo che sono sponde che non devono essere appiattite questo mistico San Giovanni della Croce San Juan della Croce in spagnolo che nasce all'inizio del ciclo nel 1521 se non ricordo male no scusate nel 1542 e more nel 1591 quindi a un'epoca anche difficile epoca in cui il controllo sulla dottrina era molto stretto era da poco scoppiata diciamo l'epoca della riforma protestante nella Spagna cattolica c'è un controllo serratissimo anche sulle professioni di fede Giovanni nasce anche qui te la parla una storia molto bella suo padre era un nobile di Toledo una famiglia di ricchi commercianti che si innamora di una povera testitrice abbandona tutto per sposare il suo amore già questo come dire segno di apertura al divino muore presto il padre di Giovanni e lui resta con la madre che per soprattutto vivere per aiutare se stessa e il bambino a crescere davanti ai lavori cambia varie città gira intorno a un luogo in cui era nato Juan Aguila Juan però ha un grandissimo intelletto come Cusà con Mishida studia apprende velocemente sente una vocazione non prestissimo a natura ma è una vocazione fortissima diventerà amico di Teresa Davila più vecchia di lui di una trentina d'anni incontrerò anche queste amicizze Francesco e Chiara Reocane Esin Giovanni e Teresa insieme rinnoveranno l'Ordine dei Carmelitani fondando o rifondando l'Ordine dei Carmelitani e Carmelitani Scalmi e nel 1568 il 28 novembre me lo ricordo perché è il mio compleanno Juan de Iepes Alvarez cambia nome e diventa Juan de la Perusa sceglie in quel momento a 26 anni di chiamarsi in questo modo e di dedicare consacrare la sua vita a questo tipo di ricerca e scrive trattati è un fine teologo e scrive anche poesie scrive poesie in cui esprime questo linguaggio la sua dimensione appunto mistica più profonda e ascoltiamo allora due testi uno per giungere a gustare il tutto una sorta di distici che mostrano anche qui questo rapporto tra il tutto e il nulla nada in spagnolo una parola che ricorda molto spesso nei testi di Giovanni questo nulla con cui fa coincidere Dio anche qui non perché Dio non esista ma perché Dio è al di là dell'esistere e del non esistere al punto che dire Dio esiste è quasi da svegli perché significa pensare che Dio faccia parte dell'ambito dell'esistenza come ogni altro ente e quindi significa di nuovo pensare Dio come un super ente ecco perché può andare bene dirlo se sappiamo i limiti di questo dire e l'altra poesia specchiamoci nella tua bellezza è una poesia in cui si sente anche qui un altro motivo tipico della mistica l'amore il calore per le cose create la mistica non è un perdersi in vane sofisticherie non è un perdere il contatto con il qui ed ora soltanto per puntare alla trascendenza ma è sentire la trascendenza nell'impanenza sentire che la bellezza di questo fiore di questo alito di vento di questo suono di ruscello è già segno presenza viva del divino per giungere a gustare di tutto non cercare il gusto in niente per giungere al possesso del tutto non vuole possedere niente per giungere a essere tutto non vuole essere niente per giungere alla conoscenza del tutto non cercare di sapere qualche cosa in niente per venire a ciò che ora non godi devi passare per dove non godi per giungere a ciò che non sai devi passare per dove non sai per giungere al possesso di ciò che non hai devi passare per dove ora niente niente hai per giungere a ciò che non sei devi passare per dove ora non sei ecco ecco e specchiamoci nella tua benvenza facciamo in modo che, per questo esercizio di amore, giungiamo in cielo a specchiarci nella tua bellezza. Vaglio a dire, io sia trasformata nella tua bellezza, tanto che, divenuta simile a te, anzi, possedendo la tua stessa bellezza, ci vediamo tutti e due, in essa. Ciò avvenga in maniera tale che, guardandoci per l'altro, ciascuno di noi veda nell'altro la propria bellezza, già che, essendo io già assorbita nella tua bellezza, quella dell'uno e dell'altro è tua solità. Così io vedrò te nella tua bellezza, e tu me nella tua bellezza, e tu ti vedrai me nella tua bellezza, e io mi vedrò in te, nella tua bellezza. Che io sembri te nella tua bellezza, e tu sembri me nella tua bellezza, e la mia bellezza sia la tua, e la tua sia la mia. Così io sarò te nella tua bellezza, e tu sarai me nella tua bellezza, poiché la tua stessa bellezza, sarà la mia. Cristallina sorgente, Se in questi tuoi riflessi inargentati, formassi di repente, gli occhi desiderati che conservo nell'intimo ambozzato, Allontanami, amato, che fuoco, a volo. Volgiti, colomba, che il cervo saltato dall'alto si protende, al tuo passaggio, il fresco soffio prende. Io parlo ancora prima di lasciare, padre Luciano, la lettura di alcune poesie di padre Maria Turotto e Salute Finale. Ecco, queste poesie di Giovanni della Croce, riecheggiano, forse qualcuno di voi anche l'ha percepito, il Cantico dei Cantici. Questo rapporto tra un mio e un tu, che si specchiano uno nell'altro. E' un'epoca in cui ancora, infatti la grande opera di Martino Utero, che era tradotto la Bibbia in tedesco, non si poteva tradurre la Bibbia in lingua volgare. Si poteva leggere solo il matino, il greco, e solo i polotti, e solo i sacerdoti ordinati, e abbiamo accesso ai testi saluti. Quindi qui anche, se vogliamo, la bellezza di questo gesto poetico, che in spagnolo, nel Cinquecento, traduce, per così dire, porta, trasporta in poesia lo splendore di una esperienza mistica che anche in questo stesso è affettiva, l'innamoramento per una persona o per una cosa del mondo, e però anche mistica e religiosa, l'innamoramento per Dio. in questo senso c'è questa capacità anche di tenere insieme, di lasciare passare forme diverse di poesia alta, di poesia popolare, di un rapporto carnale, concreto, e di un rapporto anche, appunto, trascendente. Allora lascio la parola a Padre Luciano. vorrei avere il corcione di Padre Davide Maria Toulon, purtroppo non ho. E io, mentre la poesia di Giovanni della Croce si è fatto gustare l'aspetto idillia, della comunione dell'Io che è il mio limite con il Tu che è Dio che è l'Infinito che è il tutto, nelle poesie di Turoldo troviamo la stessa esperienza proprio focalizzando il dramma del dolore. Ecco, lo stesso come nella poesia di Giovanni della Croce la stessa esultanza dell'Io e del Tu in comunione e il dramma che unisce l'uomo a Dio e Dio all'uomo. Ogni qualvolta l'uomo soffre e una lacrima cade anche Dio soffre e una lacrima cade dai suoi occhi. Il nulla ti assale misteriosa origine di astri e di lombrichi il settimo giorno pure per te è un sogno il nulla da ogni parte ti assale tu sai di essere la fonte anche dei virus e di tagli e di tignole e noi cosienza di pensarti senza sapere mai che tu sia che tu sia tua e nostra frontiera morte morte non basta non vi è soluzione tua e nostra frontiera è il nulla tu tu senza cosa a creare e noi e le pietre e i cinti e gli astri a gemere se un attimo appena se un attimo eppure se un attimo di pensare tu sospendi e se un attimo dico appena il tuo respiro sottrae fulmineo il nulla di nuovo sindiote l'intero universo il nulla tuo e nostro male oltre la foresta fratello ateo nobilmente pensoso alla ricerca di un dio che io non so darvi attraversiamo insieme il deserto di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi liberi e nudi verso il nudo essere e là dove la parola muore abbia fine il nostro cammino nell'oceano del nulla e senza dell'essere epifemia dell'essere nell'unità dell'essere è l'essere il globo che tutto contiene e naviga nell'oceano del nulla grazie a tutti Bene, ringrazio tutti i presenti per l'attenzione. Oggi è stato un incontro veramente adesso di persone che hanno parlato, che hanno recitato, che ci hanno prasmesso cose molto colponde che alcuni di noi vuoi lavorare un po' più intimo, un po' più essere dopo questo incontro. Quindi poi se qualcuno vuole sentare delle domande, le può fare, i relatori rimanano qui, però potremmo poi concludere in questo modo questo incontro. Vi ricordo appunto che per chi lo desidera, desidera sostenere queste iniziative, lo può fare lasciando un'offerta libera naturalmente, non ha una cassa, una piccola scatola delle offerte che si trova appunto in fondo alla piena. Prima di lasciarvi, vi ricordo l'ultimo incontro che avverrà il prossimo sabato, il sabato 27 aprile. Il titolo è «Pellegrinando la via del dialogo Zen e Vangelo, ci sono salito la sua gente». La via percorsa da Moshita Shigeto, filosofo Zen, riceve il battesimo di Venezia e diviene imparato il Domenicano, fondatore delle remorse Camori di Nagano. Poi ci sarà «Pellegrinare tra nulla e l'assoluto, praticando l'otta Zen e ascoltando il Vangelo». Testimonianza di Luciano Mazzocchi, missionario e promotore della via Vangelo Zen. Poi ci sarà la via del sudore, la via della fede, testimonianza di Gira Zaro, un minore ristoratore di sushi. Seguirà Pozzazen, Vangelo la vita e noi giovani, con tre testimonianze di giovani che seguono, che animano la comunità di Padre Mazzocchi, Alessio, Raul e Yasuo. Poi ci sarà «La fonte, Roscello e l'acqua, lettura della preghiera poesia di Shigeto Shida» che terminerà l'incontro con canti in lingua giapponese italiana, a cura di giovani cantanti italiani e giapponesi in Milano. Ringrazio tutti i presenti ancora per aver partecipato.